Trovo in questo luogo, assente dal mondo, sento solo il cinguettio, le rondini, mi ingrandisco, ecco là un bel nido, li vedete? Eccoli, eccoli che aspettano la mamma, i nuovi passerotti, le nuove rondinelle. Sono qui, in questo bel luogo, e non vi ho detto ancora il paese, guardare che incanto è questo posto. In questa casa abitavo mio amico che conoscevo, ma non oso suonare il campanello. La prossima volta lascio un saluto nella casella postale e guardare di nuovo ancora con le rondinelli che aspettano il cibo dal viandante. Io sono un viandante, aspetto la speranza di ognuno che mi ascolta, il cibo per nutrire i miei viaggi, per sapere dove io sono. Il commento in fondo YouTube, e mi giro, mi giro, guardo le belle trave che ci sono, e mi cammino in questo bel piccolo borgo, dove non vi ho detto ancora il nome, ma tra poco ve lo dirò. Aldo, Aldo, un volo di rondine che porta a una speranza, Aldo.